Nonostante il vento di maestrale, gli oltre 800 podisti non hanno rinunciato a partecipare al Giro del Faro. La gara podistica provinciale Fidal di Bari, sulla distanza di 9,5 km competitiva e 5 km non competitiva, organizzata dalla sezione atletica leggera del CUS Bari, sotto legida della Fidal, con il patrocino del Comune di Bari, dell'Università degli Studi Aldomoro di Bari e del Politecnico. La gara, valida come quinta tappa del trofeo provinciale Terra di Bari, ha preso il via alle 19 in punto, dopo aver osservato un minuto di rigoroso silenzio in ricordo delle vittime del drammatico incidente ferroviario. Presenti anche Pietro Petruzzelli, assessore all'ambiente e allo sport del Comune di Bari, Giuseppe Sezzo, presidente del CUS Bari, Giuseppe Angiulli, vicepresidente, Angelo Giliberto, presidente Fidal regionale Bari e Antonella De Tullio, capo sezione atletica leggera CUS Bari. Gli atleti, provenienti da tutta la regione e oltre di tutte le età, si sono sfidati in un percorso articolato in due giri di 5 km, con partenze e arrivo sulla pista di atletica del CUS. Le sezioni triathlon e pattinaggio hanno supportato il giro del faro, rendendo ancora più visibili i colori biancorossi del CUS nella lunga scia di sportivi in gara. L'iniziativa, detto Antonella De Tullio, si conferma una realtà per il popolo sportivo barese, una gara che nel percorso attraversa i luoghi simbolo della città, tra cui la Fiera del Levante e l'ex Stadio della Vittoria. Una iniziativa dedicata al presidente fondatore del CUS Bari, Gnazzo Loiacono, il padre del CUS Bari e di tutti i Cussini, fondatore del Movimento per lo Sport Universitario in Italia e nel mondo.